Zero contagi da due giorni dopo la paura tornata a farsi sentire in Molise, soprattutto a causa della positività riscontrata tra alcuni vacanzieri tornati da Grecia e Sardegna, il coronavirus dà tregua alla piccola regione. Non ci sono nuovi casi e c'è un altro guarito. Si tratta del carabiniere di Ururi, risultato tra i contagiati il 4 agosto scorso. Ora è negativo al doppio tampone. Nelle scorse ore paura passata anche per il militare di Boiano tornato da una missione in Kosovo qualche settimana fa. Gli attualmente positivi Molise scendono quindi a 56, due di loro sono ricoverati in malattie infettive, gli altri sono asintomatici e isolati a domicilio. L'ultimo paziente che in ordine di tempo è stato trasferito al Cardarelli è un 48enne di Termoli che era stato alcuni giorni in Sardegna. Nelle scorse ore ha iniziato ad avvertire sintomi e i sanitari hanno predisposto il ricovero a Campobasso. I suoi familiari sono in quarantena e complessivamente in tutta la regione sono 113 le persone in isolamento. Questa è la mappa della diffusione del Covid-19 sul territorio molisano. 34 contagi a Campobasso, 3 a Isernia, 5 a Termoli e 5 a Campomarino, 4 a Sant'Elia a Pianisi, 2 a Campolieto e 2 a Forli del Sannio, 1 a Filignano.